e quindi noi ci e quindi noi ci e quindi noi ci 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 tenevamo ci ci tenevamo ci 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 aspetta ce l'ho famo una grigliata e quindi noi volevamo mostrare qualcosa come sempre vi invitiamo a iscrivervi a sul come sempre vi invitiamo a iscrivervi al come sempre vi invitiamo a ciao ragazzi oggi uscirà il nuovo film le bestie merda non estirpava le erbacce e come presidente delle associazioni uno scheletro di donna non si evince dalla donna dalle ossa di tette uno scheletro di donna non si evince dalla dalle ossa si a tal proposito forse fuochi d'artificio questo salva lì questo natale ma vai a ehi watson sono io il tre vai a carla carla ma dai ti perderesti la grande puttana ti voglio di nuovo non avevo idea di quanto ti piacesse era una casa di dobloni o di mani beh molto di qualcosa beh molto di qualcosa oddio mio senti donna ci sono degli zombie oltre questo cancello derid e io ci occuperemo di usi e una volta finito io osserverò mio figlio ma ma che c***o io osserverò mio figlio papà aspetta aspetta perché anche i cattivi e noi combatteremo palmizio e continueremo continuate a cercare quei due devono essere nascosti da nascosti ei papà svolgiamo delle attività totalmente inutili giusto per passare il tempo prima che tu inevitavia ee ma sai no chiamasi arte moderna che io ho reso ancora più moderna utilizzando faccia dei membri del concilio cittadino ehehehe poi ci sono le donne de le doooonneee poi ci sono le domestiche le domestiche di agosto quantane la mia versione in carreo in carre Signorine, siamo qui per salvarmi Mi, mi no, mi, mi no Come fai a sapere come fossero i peli pubici di tutte quante le vie? Eh, la madonna è lunghissima Ora bruciamo ogni co, ogni tutto, ogni tutto Ma che co... Ho seppellito una grossa cassa di doblò Cassa di doblò Quindi dovrò aspettare che sia in galera per aver com, cam, com Cam, kim, cam, cam Dopo i bevamenti... Fatto eccezione per il madame Atkin Canton Ho trovato dei flowers, dei flowers Quello sembra un ca... Un cane di drago di car, ma cosa c***o dici? Signore, gli animatronics si stanno protestando Si stanno protestando, vabbè, vabbè Signore, gli animatronics si stanno protestando Ma si stanno cofa, cofa Ssh, qui ho CJ Usain Ma è casa, car, me sto chiamando la poesia? Ma tu non li hai 10 milioni di Carl 10 milioni di Carl Ma vaffanculo 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 Ma ora passiamo ai salumi Io volevo salutare Francesco Fusco Fusco, si è lui Ciao Fusco Come ho già detto a tutti gli altri Quando vuoi, la bamba ce l'ho Noi ci tenevamo anche a salutare Roberto Pulieri Ciao Roberto Ciao ahah ahah